Le 7.30 passate da 20 secondi. Buongiorno Regione, buongiorno Emilia Romagna. Oggi è martedì 21 marzo 2017. Dovrebbe iniziare ufficialmente la primavera, lo scopriremo con le nostre informazioni di servizio collegandoci con il servizio meteo di Arpa E. Ma oggi che è il 21 marzo si inaugura anche un'importante rassegna cinematografica a Ferrara. Ne parleremo con i protagonisti che sono due attori che vivono e lavorano a Hollywood. Proiettati verso il futuro, proiettati verso l'estero, diamo il buongiorno e il benvenuto ai due ospiti in studio questa mattina che sono Maximilian Loh e Alise Latini. Sono due attori ma sono anche direttore e vice direttrice del Ferrara Film Festival, importante rassegna cinematografica che si apre oggi ed è in corso, sarà in corso fino al 26. Esatto. La prima domanda è personale. Maximilian Loh non è ferrarise? No, no, il nome d'arte, il vero nome è Massimiliano Stroscio che è un cognome un po' particolare però sai, in America è una scelta di business. Ecco, anche per Alise Latini non è un nome d'arte ma è... No, il mio è proprio il mio. Lì mia madre è lungimirante e ha detto diamole questo nome. Che dà un tocco esotico che aiuta alla vostra carriera cinematografica perché voi oltre ad essere appunto animatori di questa rassegna siete anche due attori che hanno fatto i bagagli e si sono trasferiti a Hollywood. Certo, io vivo come anche Alise da 11 anni quindi oltre un decennio lavoriamo in produzione quindi facciamo cinema a 360 gradi prima insomma davanti alla camera e adesso anche dietro e ora anche a cavallo di questo Ferrara Film Festival. Allora parliamo della rassegna mentre la regia ci propone le immagini appunto dei trailer di questo festival. Quali sono le novità più importanti di quest'anno? Io direi che quest'anno il festival è importante perché è all'insegna dell'accessibilità quindi secondo me la prima cosa da nominare è il nostro rapporto con Sara Giada Gerini la sua campagna Facciamoci Sentire. Quindi tutti i film sono sottotitolati Per i non utenti. Esatto. E tutti i nostri eventi saranno sottotitolati in presa diretta. Poi ci sarà un accesso facilitato per i disabili anche alle sale. È prevista la proiezione nel reparto di nefrologia dell'ospedale Kona quindi i coloro che sono in dialisi potranno trascorrere il tempo gradevolmente guardando queste pellicole. Quali sono le anteprime se ci sono se sono nazionali o mondiali? Tantissimi infatti abbiamo superato noi stessi. Nella prima edizione avevamo tre prime mondiali. Quest'anno ne abbiamo sei. Sei prime mondiali, cinque prime europee e cinque prime italiane. Stasera tra l'altro ci sarà il film di apertura che è fuori concorso Trafficked, è un film americano che è una prima mondiale. Tra l'altro abbiamo fatto anche il sold out quindi faremo anche una replica... Tutto esaurito. Tutto esaurito. Internazionale sold out. Quindi faremo anche una replica alle 21.30 sempre stasera quindi siamo molto molto felici. Ecco Alessia, questa è anche una scelta di vita che avete fatto no? Molti immaginano la vita a Los Angeles come dorata con George Clooney che ti invita a colazione e magari ecco. Invece vogliamo spiegarlo anche a chi ci ascolta che è stata uno? Beh è una scelta difficile. Le difficoltà di lasciare casa ci sono sempre. Spostarsi da Roma a Milano è già una difficoltà. Spostarsi dall'Italia agli Stati Uniti diventa un attimino più grande. Cresci in un'altra lingua, io lo dico sempre. Noi siamo andati lì molto giovani e siamo diventati adulti in inglese. Quindi ci sono le difficoltà anche di un mondo che è difficile. Tutti vogliono sfondare a Hollywood. Un mondo molto competitivo. Sì c'è tanta concorrenza. Anche perché qui in Italia comunque hai quando vai a Roma o Milano hai la competizione da gente da tutta Italia. Lì hai la competizione da gente da tutto il mondo. Ecco voi avete in particolare tu hai studiato all'Actor Studio. Sì anche alla Stella Adler e poi mettersi in gioco costantemente. Devi essere un po' folle. Infatti quello che dico sempre come anche Alizé è folle parecchio per seguirmi in questa avventura. Grazie. Alizé per concludere in una battuta un buon motivo per venire a Ferrara a guardare Ferrara Film Festival. Perché Ferrara è bella perché i film sono belli e perché vanno supportate le iniziative dei giovani nuove. Grazie allora ad Alizé Latini e Maxi Vinalò, vice direttrice e direttore del Ferrara Film Festival che parte quest'oggi. Grazie.